Censire i cittadini ucraini profughi di guerra sul territorio della provincia di Salerno è lo scopo della piattaforma inclusa inclusione ucraini Salerno adottata dalla prefettura di Salerno per il monitoraggio delle presenze di ucraini in fuga dalla guerra nel territorio della provincia salernitana. Il progetto realizzato in collaborazione con la Questura e l'Anci prevede un sistema per la presentazione delle dichiarazioni di presenza e di ospitalità a cui sono tenuti i cittadini ucraini e coloro che li ospitano. Le dichiarazioni potranno essere effettuate presso l'ufficio immigrazione della Questura, i commissariati della Polizia di Stato di Battipaglia, Cava dei Tirreni, Nocere Inferiore e Sarno e i comandi delle polizie municipali nei comuni dove i sindaci sono autorità locali di pubblica sicurezza. Nella piattaforma inclusa confluiranno tutte le informazioni in possesso degli uffici preposti alla ricezione delle dichiarazioni di presenza. L'obiettivo è quello di avere una fotografia in tempo reale della situazione e di disporre di un quadro sempre aggiornato della presenza dei profughi ucraini sul territorio della provincia di Salerno che prevalentemente giungono in maniera spontanea come ha dichiarato questa mattina ai nostri microfoni il prefetto di Salerno Francesco Russo. Stiamo seguendo chiaramente attraverso le attività ordinarie degli uffici che si stanno muovendo molto bene, da un lato le ASL per quanto riguarda gli STP, i tamponi, per coloro anche tutto il sistema delle vaccinazioni e dall'altro lato la Questura che sta ricevendo le dichiarazioni di presenza e abbiamo già dei dati diciamo abbastanza aggiornati ma avevamo bisogno di avere un dato complessivo. C'è un richiamo anche del Signor Ministro oggi all'unità, lasciare un po' lo spontaneismo, uno spontaneismo frutto da un lato della generosità degli ucraini presenti in Italia ma anche di tanti cittadini italiani e dall'altro lato dalla necessità pienamente comprensibile da parte degli ucraini che stanno arrivando in Italia di trovare subito dei punti di riferimento chiaramente principalmente nelle loro famiglie dei tanti ucraini presenti qui. Noi abbiamo diciamo creato questa piattaforma informatica che stiamo facendo implementare ai comuni, voglio dire che già il comune di Sabri ieri sera che raccoglie, già ieri sera noi ieri l'abbiamo pubblicata, l'abbiamo mandata a tutti, hanno già inserito molti dati dei presenti in quella zona, adesso noi lo stiamo facendo seguendo i comuni, anche quelli più piccoli che sono un attimino diciamo meno attrezzati per avere un censimento completo, quindi saremo in grado anche alla stampa nei prossimi giorni di dare dei dati completi. Continua l'opera di accoglienza, è ancora legata come dicevo prima all'arrivo e all'allocarsi presso alloggi e via discorrente, noi abbiamo un sistema di CAS che permette di accogliere delle persone, anche se al momento non ancora utilizzato e abbiamo anche molti comuni che ci stanno proponendo degli accordi di collaborazione. Ecco noi quindi siamo pronti, ma io su questo non avevo dubbio, come sistema Salerno, provincia di Salerno di fare bene il nostro dovere.